Momente ragazzi sono Andragorossi, bentornati in questo ultimo episodio di Tales of Zesteria Continuiamo dove ci siamo lasciati, dobbiamo andare all'Aston Bell Abbiamo finito Abbiamo appena finito una Un'epica battaglia possiamo dirlo Adesso dobbiamo andare all'Aston Bell per Vedere cosa Succede L'Aston Bell, dobbiamo andare per di qua, si Vabbè Tra l'altro non mi ricordavo se l'Aston Bell Se si trovava qua nella Foresta, invece si Allora vabbè tutti questi mostri Li andiamo a schippare Andiamo a prendere solamente Ah un mostro Queste chest Eh ma c'ho tutto al massimo qua Allora fammi vedere solamente Ok basta andare per di qua Quindi Stiamo qua sulla sinistra E ci dovrebbe condurre proprio di fronte All'Aston Bell Quindi dovremmo parlare anche Anche con Serghei No Oh sono Sono tutti lì Eh ma sono tutti lì Aspetta che ci sono Senti Senti il Trent è qua Estremamente Veloce Si sono tutti qua Ha 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 I knew you were alive You're meeting with Roland's Shepard I am Sergei Eh beviamoci Il tè Cioè si Il tè Al santuario per controllare Alicia e Sergei Ok Va bene Andiamoci subito Però forse faccio una Dormita Prima Ah qua sono Faccio prima una Dormita Questa Cosa vuole Questa è una costante Di piace Non mi convinco Non voglio parlare Di una inattesa E sospettosissima Tregua Dell'ultimo secondo Se sono non già versati I fiumi di sangue Sono entrambi gli scheramenti Il tempo degli abbracci E delle strette di mano Mi sembra passato Da un pezzo No Si dai Faccio una Dormita Un microcosmo Parallelo Cos'è sta roba? A proposito di Drago Qua ho ottenuto Globo della rincarnazione Ma non so cos'è E' un prezioso Ah si ok Però non Allora qui Nei preziosi Contrasta il potere Dell'arte curativa Del drago Beneficio lucente Ma io non so Se questi preziosi Cioè Mi servono A qualcosa Sono solamente Collezionabili Boh Vabbè Vabbè Comunque Facciamo una dormita E poi facciamo anche Un salvataggio Non si sa mai Ma faccio questo Ah no Niente cazzi Vabbè Noi siamo sempre aperti Ma andiamo a fighare Con i vari clienti Ah vabbè Ah vabbè Qua No qua Mi sembra che non ci sia Niente No niente Aspetta Ah no parla Appena savo che Potevo aprire Quella Quella porta là Ok ho fatto un salvataggio Nel dubbio E adesso andiamo Al santuario Ah Il comandante ha riterato L'ordine di evacuazione Ci scusiamo per tutti I disagi Che vi abbiamo causato La situazione Sembra esserci Stabilizzata Eh Ah è qua Ah vedi La cara principessina E il signor cavaliere Sono già nel santuario In che senso No non sono Fatto Ubriaco Cioè Già sei ubriaco Questo Ah pensavo che c'era Un'altra cesta Qua Aspetta Qua dove c'ha Ah ok Ah qua è Vabbè Una via Mezza alternativa Vabbè No sto Pezzettino Non ne me lo Non ne me lo ricordavo Va bene Entriamo Entriamo qua dentro All right That should do it for now Yes Thank you for all your help Ah It's over already The first meet and greet I've received an invitation To Pendrago Castle By yourself In exchange His imperial majesty Of Roland's Will allow me to meet For direct negotiations Not bad for a bottom rung princess Huh We are comrades Who battled the dragon Together The empire Will have the decency To acknowledge that Neat Guess the peace talks Are in good hands And here I thought The war would be Dragon On and on Oh no That was a pretty good one I'm jealous Is it a competition? Sare Would you be interested In coming to Pendrago With us? You're a key figure In bringing our two nations Together Thanks But that's a dream That you should be The one to fulfill I suppose Best to you On your journey You too Alicia Sergei Not to mention Our plastered buddy Out there Eh l'amico ubriaco Boh vedremo Te mi dici qualcosa Farò il possibile Realizzare il sogno Che tutti noi Condividiamo Ok dobbiamo andare a Ok dobbiamo Abbandonare Mi sa che Dovrò andare a Pendrago Eh Non preoccuparti Dovrò Un po' Lavorerò Fianco a fianco Con la principessa Alicia Faremo di tutto Per risolvere La situazione Eh Ci spero Adesso dobbiamo Solo Abbandonare La Stonebell Ma che è Già sera Così Ma che cacchio Ehi Sorei Che non Befi in compagnia O è un ladro O una spia Aspetta Mi fai vedere Ah Ma è fuori Eh vabbè Ma devo uscire Per forza Dall'altra parte Va beh Qua ma Mi dice qualcosa Un netto rifiuto Ma cos'è Mi parlano alle spalle Ma chissà che cosa Succederà adesso Cosa succederà adesso Questa sicuramente Cosa Si solo una scurita Un posto Cosa Sacera Questa 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 ma... è così dormito all'interno oh, mia l'occhio ho bisogno di lieci uscire uscire un gioco vieni 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 il vieni circa lilah in i Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. The gang's all here. Grazie a tutti. No doubts, no regrets. Let's go. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove tutto è iniziato. nella città di... Perché non c'è... l'audio? Vabbè... Bene, allora... la strada per Cam-Lan... ma si vediamo... anche questo... la strada per... 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 di Tales of... di Tales of... di Tales of Zesterea...